Drono in volo. Drono nemico sulla testa. Rilevata attività ostile. Segno la posizione. Uomo a terra, uomo a terra. Versaglio a terra. C'è un segnale dalla torre di ricognizione. Presto sarà attiva. Attenzione, rilevata attività ostile. Contatto visivo nemico interrotto. Versaglio a terra. Resta un nemico. Chiudiamo la partita. Versaglio a terra. Rilevata attività.